Benvenuti in un nuovo video tutorial dedicato alle novità in Adobe Premiere 2019. Sono Fabio Ambrosi e questa playlist è dedicata appunto a tutte quelle nuove funzioni che sono state introdotte nella release 13.0 di Adobe Premiere 2019. Come ricordo sempre venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it per leggere tutti gli articoli di queste video lezioni e soprattutto seguite, se avete voglia e se volete scoprire come funziona Premiere dalla A alla Z il mio corso base dedicato al montaggio video con Adobe Premiere. Tutto gratis, tutto sul mio canale YouTube, quindi iscrivetevi per restare sempre aggiornati. Veniamo a noi. Nella scorsa lezione abbiamo visto come funziona la color correction selettiva nella nuova release di Adobe Premiere 2019. Quest'oggi invece vedremo quali novità sono state introdotte per migliorare l'audio con Adobe Premiere. Piccola nota storica, fino a un po' di tempo fa, fino a qualche versione fa di Adobe Premiere se c'era un audio fatto male, che bisognava in qualche modo migliorare e correggere l'unica soluzione, diciamo percorribile, era quello di modificare l'audio con Adobe Audition. Ciò è ancora possibile nella versione 2019 di Adobe Premiere. Anzi, Premiere sta lavorando sempre più in tandem con tutti gli strumenti della suite Adobe. Quindi, così come è possibile modificare la grafica in After Effects, è possibile modificare tutto l'audio in Adobe Audition, il potente software per il mixaggio e in generale per tutto quello che riguarda la componente audio dei nostri contenuti multimediali firmato Adobe. Tanto per vedere come si fa, è possibile cliccare col tasto destro del mouse sopra una clip audio e cliccare sopra alla voce modifica la clip in Adobe Audition. In pochi istanti verrà aperto Adobe Audition 2019, la nostra clip verrà importata e possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo per poi tornare indietro ad Adobe Premiere. Ma concentriamoci adesso sulle novità che sono state introdotte in Adobe Premiere 2019 per quanto riguarda l'audio. Come detto, alcune funzioni di Adobe Audition già sono state integrate nelle versioni precedenti, quindi è possibile già utilizzare tra gli effetti alcuni strumenti per pulire il nostro suono. Ma la novità di Adobe Premiere 2019 sta nell'aggiornamento dell'algoritmo che pulisce il suono. Facciamo un esempio pratico. Ho registrato questa clip con il mio cellulare fuori di casa, quindi c'era un po' di rumore, un po' di fruscio e sicuramente la mia voce non era buona come può esserlo adesso. Ascoltate. Questa è una registrazione per mostrarvi come Premiere possa rimuovere del rumore non voluto da una registrazione magari effettuata in un ambiente troppo rumoroso. Ok, sentite che c'è molto rumore in sottofondo. Ora, la registrazione è stata fatta con un cellulare, quindi di per sé non è proprio fantastica, però comunque sentite che il rumore è abbastanza presente. Cliccando, come detto, nella tab audio e quindi aprendo gli strumenti audio presenti in Adobe Premiere, sulla destra troverete la tab, il pannello dell'audio essenziale. L'audio essenziale è una raccolta di strumenti che con pochi clic vi permettono di migliorare e lavorare il vostro audio a seconda della tipologia che state lavorando. Quest'oggi ci concentreremo sul dialogo, perché comunque la mia è una voce sola, senza musica e senza particolari voci e effetti complessi. Quindi clicchiamo sopra dialogo e vedete che vengono aperti tanti strumenti, ognuno dei quali ha una funzione ben precisa. Questo video tutorial è dedicato alle novità di Adobe Audition, quindi noi ci concentreremo sulla funzione per ridurre il disturbo e la funzione per ridurre il rimbombo. Come potete immaginare sono molto semplici da utilizzare, basta attivarli cliccando sopra al bottone corrispondente e muovere questo slider a sinistra o a destra. A sinistra l'effetto praticamente non viene inserito, a destra l'effetto viene inserito con una certa forza. Ecco, mettiamolo in questo modo. Ma andiamo in play e ascoltate come cambia il suono quando io sposto questo slider da sinistra verso destra. Selezioniamo la clip e andiamo in play. Questa è una registrazione per mostrarvi come Premiere possa rimuovere del rumore non voluto da una registrazione magari effettuata in un ambiente troppo rumoroso. Avete sentito come passando da sinistra mano a mano che andiamo verso destra il rumore di sottofondo venga rimosso e l'audio venga leggermente migliorato? Ascoltate ancora, eh? Questa è una registrazione per mostrarvi come Premiere possa rimuovere del rumore non voluto da una registrazione magari effettuata in un ambiente troppo rumoroso. Ok, è chiaro che il prezzo da pagare quando puliamo un audio con del rumore in sottofondo è sempre sulla voce principale perché chiaramente noi andando a rimuovere delle frequenze audio dallo spettro audio della nostra voce inevitabilmente dobbiamo utilizzare questo slider con molta parsimonia. Dobbiamo farlo scorrere da sinistra a destra fino a quando non sentiamo che l'audio comincia ad essere buono. Se andiamo troppo a destra chiaramente anche le frequenze della nostra voce vengono compromesse quindi per migliorare l'audio rischiamo di distruggerlo. Quindi lasciamolo così a metà. Andiamo adesso a vedere la funzione rimbombo. Questa è una funzione molto comoda se dovete migliorare un'intervista, un audio, uno speech registrato in una stanza con molta eco. Ok? Vale sempre la regola che non vi dovete mai aspettare miracoli però qualcosina è possibile farla. Vediamo se funziona anche con lo speech fatto fuori casa con il nostro rumore vediamo cosa succede ma andiamo in play. Questa è una registrazione per mostrarvi come Premiere possa rimuovere del rumore non voluto da una registrazione magari effettuata in un ambiente troppo rumoroso o se avete fatto un'intervista con un audio non proprio ottimale. Ok, l'audio credo sia molto migliorato rispetto a prima ascoltate. Questa è una registrazione per mostrarvi come Premiere possa rimuovere del rumore mentre prima era così. Il rumore non voluto da una registrazione magari effettuata in un ambiente troppo rumoroso o se avete fatto un'intervista. Ok, vi ripeto, non dovete mai aspettarvi grandi miracoli da queste funzioni perché comunque vanno ad essere intaccate delle frequenze anche nello spettro vocale e quindi la cosa migliore da fare quando si lavora è cercare di avere un audio perfetto alla radice. Ok, nel prossimo video tutorial dedicato alle novità introdotte in Adobe Premiere 2019 vedremo una piccolissima ma molto importante novità che riguarda la grafica e la titolazione ovvero la possibilità di scalare i titoli e la grafica direttamente in vettoriale. Ne parleremo nel prossimo video tutorial mi raccomando registratevi al mio canale YouTube per restare sempre aggiornati sulle novità venite a trovarmi sul sito internet www.fabioambrosi.it dove troverete tra qualche giorno tutti questi tutorial ben illustrati anche con articoli e se volete fatemi compagnia su Facebook sulla mia pagina Fabio Ambrosi grazie mille per avermi seguito se volete commentate se ho fatto qualche errore o detto qualche imprecisione commentate pure il dialogo aiuta tutti quanti a crescere quindi se avete qualcosa da aggiungere scrivete tranquillamente dialoghiamo, manteniamoci in contatto nessuno nasce imparato al 100% quindi se qualcuno vuole integrare qualcosina o dare una mano ad altri utenti che hanno bisogno può farlo tranquillamente commentando questo video grazie mille per avermi seguito alla prossima